lorenzo spolverato rischia guai seri all'interno della casa del grande fratello gli autori del reality show hanno deciso di richiamarlo duramente per i suoi atteggiamenti arroganti che non sono stati ben visti né dalla produzione né dagli altri concorrenti nonostante un primo rimprovero in diretta da parte di alfonso signorini lorenzo ha continuato con il suo comportamento aggressivo e con frasi infelici nei confronti dei suoi coinquilini la produzione del grande fratello ha deciso di intervenire e ha chiamato lorenzo in confessionale per fargli capire che deve cambiare atteggiamento il concorrente ha ammesso di aver ricevuto un richiamo e ha promesso di riflettere sulle sue azioni cercando di mantenere la calma e di osservare meglio ciò che accade intorno a lui molti spettatori sul web chiedono addirittura l'espulsione di lorenzo per le sue parole offensive verso alcuni concorrenti tuttavia la produzione sembra aver deciso di dargli una seconda possibilità ma con un chiaro avvertimento deve abbassare i toni e modificare il suo comportamento altrimenti potrebbero esserci conseguenze più serie lorenzo ha promesso di cambiare e di essere più controllato ed elegante nelle sue azioni ha ammesso di essere un combattente per la verità ma che ora cercherà di farlo in modo più equilibrato resta da vedere se riuscirà a mantenere la promessa o se finirà nuovamente nei guai la situazione all'interno della casa del grande fratello si fa sempre più tesa e i telespettatori non vedono l'ora di grazie a tutti